Pertanto lei è ossessionata da quest'amore che non le dà tregua. Senta 41. Colantuno. E' albergo. Colantuno. Mi puoi dire come ebbe inizio la fine? E' della storia. Dottore, io preferirei raccontare come ebbe inizio la storia. Ma è della fine? No, l'inizio della storia. Vabbè. Mi trovavo in un bar con degli amici. Ascolta il mio canto dolce e perverso in questo squarcio dell'universo. Per arrivare a te, per arrivare a te, ascolta la voce rotta dal pianto. Ricordo uno schiaffo a tempo di tango. Mi allontanai da te, scappando tu da me. Son mesi che provo questa tortura. Mi dico col tempo sarà meno dura. Ma se lo dici tu, se lo dicessi tu. E' il tempo di andarsene senza rumore. E addosso solo l'odore di un lungo piacere, piacere, piacere. Se non provi dolore, dolore, dolore. Non apprezzo il piacere di chiamarti a un dottore. Ti bacerei ovunque, perché tu sei abbondante, romantica e sua dente. Ti leccherei ogni istante, perché tu sei amante del sesso sconvolgente, dolce e perverso. Mi fermo improvviso un lungo silenzio. Mi assale la voglia di trovare un senso. La nostalgia cos'è? E' chiusa dentro me. Son mesi che provo questa tortura. Mi dico col tempo sarà meno dura. Ma se lo dici tu, se lo dicessi tu, ti bacerei ovunque, perché tu sei abbondante, romantica e sua dente. Ti leccherei ogni istante, perché tu sei, sei, sei amante del sesso sconvolgente, dolce e perverso. Son mesi che provo questa tortura. Mi dico col tempo sarà meno dura. Ma se lo dici te, se lo dicessi te, ti bacerei ovunque, ti leccherei ogni istante, perché tu sei, dolce e perversa. E' scappata. E' così che be' iniziò la fine dell'inizio, insomma all'inizio della fine della storia. Vabbè, 41 e basta. 41. 41, 41, 41. Ho capito, ho capito. Questa è la tipica sindrome che stiano. Qua è una canna che mi ha giù un metro che si è lutto. No, ma non si è una cosa. Ma, per pura curiosità professionale, mi chiedete di una fotografia, signora? Certo. Grazie. E voi, per questa donna state qua. Sì, sì, sì. Ma, quando tu ditemi la verità, ma veramente quest'amore è finita? Siete proprio sicuro, sicuro, sicuro? Sì, 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 sì. E mi telefono a me. Mi scusi, 41. No. Ebbe inizio la fine della storia. No, basta, basta. 91. Sì, 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 sì. Così, sì, 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 sì. Così, beh... No, basta, ma è la vita, adesso è tutto più chiaro. Senta, ma te, per curiosità, questa è una. Avete una fotografia di questa donna? Ossacchiotti oriamo, mettiamo su casa, vivi, facciamo grandi orsacchiotti piccolini che li chiamano Sto Yogi E' parte, capito? Tu resta qua, tu ferma qua, tu è in pace Io odio essere un sacchiotto